Sono venuto qua oggi, anche se ho in parte le idee chiare, però vorrei comunque fare delle conferme. Da un signor Pigliero mi aspetto che essendo lui in ambito universitario, avendoci lavorato per alcuni anni, spero che possa capire maggiormente i problemi di noi studenti universitari e in genere di tutta l'istruzione, perché comunque penso che questo sia la base di tutto il sistema. Quindi se partiamo dal basso possiamo arrivare in alto.